I primi appuntamenti importanti in vista del Giubileo, i dati relativi al dossier sulla povertà della Caritas, nonché la delicata situazione delle carceri e le recenti proteste messe in campo anche nel nostro territorio contro il DLL 1660, sono i temi trattati dall'Arcivescovo di Salerno, Campagna Cerno, Su Eccellenza Monsignore Andrea Bellandi, nella videointervista a 9 minuti con l'Arcivescovo di questo mese. Su Eccellenza Monsignor Bellandi ha poi, rivolgendo il suo augurio di Buon Natale a tutta la comunità, parlato dell'importanza del presepe, annunciando anche l'esposizione a Pellezzano del presepe della misericordia di Montevergine. Eccellenza, il Giubileo è alle porte, possiamo già attenzionare due date importanti, parliamo del 29 dicembre e del 14 maggio. Ci parli di queste due giornate? Sì, buongiorno a tutti, intanto mi scuso della forma tramite video, ma ho una forma influenzale un po' pesante, quindi sarà così questa intervista. Per il Giubileo siamo alle porte, quindi il 29 di dicembre ci sarà questo evento di apertura del Giubileo, e quindi con una breve processione da San Benedetto fino alla Cattedrale, poi una celebrazione eucaristica, e quindi per l'occasione sono previste le presenze anche dei sacerdoti, oltre che dei laici, e quindi le messe del pomeriggio saranno sospese. È un momento in cui vogliamo ufficialmente far convergere tutta la diocesi in questo inizio di Giubileo particolarmente significativo. Il 14 maggio poi, come detto, ci sarà il pellegrinaggio giubilare della diocesi, informe che ora stiamo studiando, ma che appunto prevederanno una nostra presenza ampia a Roma, con la partecipazione all'udienza con il Santo Padre, il passaggio della Porta Santa, e una celebrazione eucaristica in San Pietro. Oltre questi eventi ovviamente stiamo predisponendo anche dei luoghi giubilari, come prevede la bolla di indizione del Giubileo, cioè dei luoghi dove sia possibile lucrare l'indulgenza e dove i fedeli possano vivere un'esperienza anche di preghiera e di carità, perché oltre ai luoghi, che saranno santuari soprattutto, sono previsti luoghi giubilari come case di cura, istituti penitenziari e anche delle opere di assistenza alle persone e che quindi possano essere luoghi in cui uno vive il Giubileo pur non andando a Roma. Perfetto. Cambiando argomento, invece è stato presentato il dossier povertà della Caritas. Quali sono i dati da attenzionare e gli strumenti messi in campo per aiutare chi ha bisogno? Sì, a me è impressionato molto questo dossier perché ha fatto emergere anzitutto ancora purtroppo una distanza che c'è fra le diocesi del Meridione e quelle delle altre parti d'Italia, perché è chiaro che c'è una richiesta soprattutto alla Caritas che viene da tutti i paesi, da tutte le zone d'Italia, però al Meridione si accentua questa richiesta. Così soprattutto il legame fra povertà e mancanza di formazione, di educazione. È impressionante un po' il dato sulla mancanza di livello adeguato di preparazione dei nostri ragazzi che terminano la terza media, cioè veniva anche fatto riscontrare proprio delle difficoltà a livello cognitivo sugli aspetti della matematica, della lettura anche e questo fa sì che poi crescendo abbiano questi ragazzi difficoltà maggiori a trovare lavoro. Ci sono dieci punti di differenza tra coloro che trovano lavoro e non studiano in Meridione e al nord, cioè i cosiddetti NEET che sono ragazzi che non lavorano e non studiano, mentre il 16% è al nord e il 26% è al meridione. Quindi sono dati che fanno capire che l'educazione incide molto sul trovare o no lavoro e su un futuro di povertà oppure di condizione agiata. Impressiona anche il fatto che la Caritas si rivolge ormai metà delle proprie iniziative riguardano la popolazione italiana, quindi non sono più gli stranieri o i migranti, ma il 50% delle azioni poste in forza dalla Caritas riguardano anche persone che vengono dal nostro paese. Intanto negli ultimi giorni si sono tenute anche delle proteste dinanzi alle carceri italiane contro il nuovo decreto secondo cui il dissenso pacifico nelle case circondariali verrà equiparato alla rivolta vera e propria e secondo cui le donne in gravidanza come anche quelle con bimbi piccoli fino ad anno d'età potranno essere recluse. Qual è la sua posizione in merito a questo? Intanto il Papa sempre in questa bolla di indizione individua il tema dei detenuti e quindi delle carceri come un tema da tenere molto in considerazione nel prossimo giubileo. Si invita proprio a pensare anche a delle forme di amnistia o di condono della pena da parte delle istituzioni, questo per il problema anche del sovraffollamento delle carceri. sviluppare percorsi di reinserimento nella comunità che possano accompagnare l'uscita e poi appunto l'impegno lavorativo degli ex detenuti. Così come la difesa forte di condizioni dignitose per chi è recluso. Sappiamo appunto come veniva appena detto che certe proteste avvengono proprio per condizioni al limite della sopravvivenza che vi sono nelle nostre carceri purtroppo e noi dobbiamo attenzionare bene questa situazione dei nostri fratelli che sono detenuti. Così come appunto in particolar modo anche delle donne, delle madri credo che la strada sia quella che è già iniziata in alcuni territori di case famiglie protette oppure appunto di soluzioni che prevedano far crescere i bambini insieme alle mamme in luoghi che non siano appunto stanze o celle di un penitenziario ma strutture certamente osservate, certamente appunto con una vigilanza ma che permettano ai bambini di crescere un po' come tutti. Questo credo che una società civile debba tenerlo particolarmente sotto gli occhi. Certo, concludendo con un argomento diverso, il Natale si avvicina ed è tempo di allestire il presepe tra l'altro tra le varie iniziative dal 1 dicembre fino al 6 gennaio a Pellezzano sarà ospitato il presepe della misericordia di Montevergine. Ecco, può essere questa eccellenza un'occasione per rivolgere nuovamente lo sguardo al festeggiato in un momento storico in cui sembra che siano più importanti le luci dell'albero di Natale che è la grotta di Betlemme? Sì, credo che tanto è una bella iniziativa quella di Pellezzano che richiama il valore di questo gesto tradizionale che è allestire il presepio che è fortunatamente una tradizione ancora presente nelle nostre case. Invito tutti a coltivarla, a realizzarla e perché ci aiuti a guardare con speranza il Natale che sta per venire anche nonostante le ombre così oscure che ci circondano. Però in queste ombre è giunta la luce natalizia e questa deve riscaldarci il cuore e darci motivi ulteriori di speranza come anche il Papa chiede in vista del prossimo giubileo. E quindi auguri anche a tutti di buon Natale. Grazie eccellenza, ovviamente l'augurio è anche per lei anche di pronta guarigione e per tutti quelli che ci stanno seguendo. L'appuntamento con 9 minuti torna all'ultimo venerdì di dicembre. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie.